Vale più o meno lo stesso discorso che ho fatto anche per quanto riguarda Sule, anche se ovviamente le motivazioni erano decisamente diverse e quindi per forza di cose anche poi di conseguenza quelle che sono state le reazioni da parte dei tifosi ma che è sempre giusto dire, soprattutto quando si parla di queste cose, di una piccola fetta di tifosi. Però comunque una piccola fetta di un totale molto elevato nonostante si parli appunto di una piccola percentuale andando poi a vedere è comunque di fatto un numero elevato di persone che io non so, probabilmente ho un modo diverso di ragionare io. Ecco, probabilmente sono anche nel torto io nel dispiacermi quando accadono diverse cose come quella che è capitata ieri a Mattia De Sciglio. Mentre invece in tutta tranquillità ho visto diversi tifosi gioire per l'infortunio di Mattia De Sciglio perché così adesso che si è fatto male e tra l'altro appena finita la partita si è venuto pure a sapere che si tratta di crociato di fatto e che quindi nei prossimi giorni verrà operato e va a capire quando sarà a disposizione proprio con questa cosa, no? Fortunatamente Mattia De Sciglio non giocherà più con la Juventus, quantomeno per diversi mesi e quindi indubbiamente questo è un motivo per gioire. Bo, io veramente certe cose dico la verità faccio dannatamente fatica a capirle dove, attenzione, io per quanto riguarda Mattia De Sciglio in sé, Mattia De Sciglio che va al di là dell'infortunio che ha subito purtroppo per lui ieri, posso concordare con chi lo reputa un giocatore non da Juventus che probabilmente se ci fosse stato un allenatore differente sulla panchina della Juventus nel momento in cui Mattia De Sciglio è andato regolarmente in scadenza l'allenatore in questione avrebbe detto, vabbè, nessun problema, o ne tiriamo su uno dall'Under 23 o andiamo a prendere qualcuno low cost sul mercato e va benissimo mentre invece sicuramente il fatto che Allegri ha un feeling particolare con De Sciglio questo ha sicuramente contribuito al rinnovo fino al 2025 se non sbaglio dove per carità il giocatore si è dimezzato lo stipendio e tutto quello che vogliamo però di fatto si parlerà di un giocatore che tra una roba e l'altra avrà fatto più o meno una decina d'anni con la maglia della Juventus e non si parla, no, propriamente di un giocatore invidiato in Italia, in Europa e nel mondo e io posso essere d'accordo con chi magari hanno un pochino, con chi ha un pochino il dente avvelenato per il rinnovo di Mattia De Sciglio per l'amor di Dio, anch'io non mi sarei strappato sicuramente i capelli in caso di De Sciglio via dalla Juventus a parametro zero e questo è un discorso legittimo, condivisibile, che parla di calcio, che parla di campo, che parla di preferenze anche su come la Juventus si vede nel futuro, va benissimo, questo ci mancherebbe altro però nel momento in cui De Sciglio rimane un giocatore della Juventus e sappiamo che con Allegri bene o male Mattia De Sciglio il suo minutaggio lo fa, anche qui va benissimo essere contrari a questa cosa, ci mancherebbe, fa parte del tifo nel momento in cui invece vedi Mattia De Sciglio praticamente a terra in lacrime dove sin da subito si capisce che il suo problema sarà un problema grave che presumibilmente lo terra fuori dal campo per diverso tempo e la tua prima reazione è quella di esultare, di gioire perché De Sciglio si è fatto male un giocatore non da Juventus si è fatto male e quindi per molto tempo non giocherà con la Juventus io onestamente dico la verità, queste dinamiche non le capisco e se posso essere sincero mi fanno anche parecchio schifo anche proprio di per sé per l'idea di essere contenti di un tifoso, di un giocatore, della tua squadra perché è di questo che si parla comunque, che si è fatto male e lo vedi soprattutto perché poi è lì in lacrime, disperato che probabilmente sta soffrendo anche proprio del dolore fisico oltre che di paura per l'idea di essersi fatto seriamente male e queste robe fanno veramente tanta 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 tenerezza se posso essere sincero e fanno veramente schifo se lo posso essere altrettanto quindi boh, un giocatore sbaglia che non sta particolarmente simpatico insulti, caterve di insulti, di ogni tipo, di ogni genere un giocatore che non sta propriamente simpatico si fa male molto, che presumibilmente anche la prossima stagione è già in serio dubbio tra una roba e l'altra vedendo poi la Juventus come sta trattando questo genere di infortuni con molta cautela, molta precauzione e si gioisce perché è una pippa quindi giustamente se si è fatto male non potrà più giocare quindi è un motivo di esultare boh, io non lo so non lo so detto questo comunque proviamo già piano piano nonostante continuino a non essere semplicissimo e ci mancherebbe vedendo il momento a pensare al campo perché domenica c'è sempre una partita che ricordiamo proprio banale non è ma vedendo come si sono messe le partite ieri sera insomma comunque la Juventus attualmente è a più 5 dal quinto posto quindi qualora quelle sotto vincessero tutte con tanto di Atalanta nello scontro diretto contro di te tu comunque avresti lì quei due punti di vantaggio in saccoccia con dopo l'unico vero big match quello del 27 di maggio contro il Milan in casa quindi da questo punto di vista insomma poteva andare anche un pochino peggio l'infrasettimanale dove alla fine della fiera noi comunque siamo riusciti a vincere per una partita è stato bello aver la possibilità di immaginare una rosa interamente a disposizione perché di fatto così era l'unico che mancava era Rabiot ma indubbiamente non per motivi fisici ma proprio per turn over per giornata di riposo e Allegri quando decide di dare una giornata di riposo nel dubbio non convoca neanche e questa volta fortunatamente ci è andata anche bene perché insomma comunque no Rabiot era pur sempre e pur sempre il capocannoniere di questa squadra nonostante si parli di un centrocapista e quando decidi di non convocare quello che di fatto ha fatto più gol potrebbe essere sempre un'arma a doppio taglio mentre invece purtroppo per le partite successive già a partire da quella di Bergamo De Sciglio non ci sarà che presumibilmente non avrebbe comunque giocato però anche qui considerando che lì di fatto c'è solo Quadrado adesso sono curioso di vedere che cosa succederà Paredes non ci sarà ma lì perché comunque nonostante il gol la cacciara che ha intrinseca l'ha dovuta tirar fuori quindi diffidato, giallo salterà la partita e per il resto nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine Forza Juve Ciao 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 Ciao